e siamo ritornati su lego batman 2 per una nuova non nuova missione debba essere la numero 5 in teoria allora noi l'ultima volta avevamo sconfitto spaventa passeri mi sembra che invece il costume è nuovo non mi ricordo bene però va bene ok questo avevano altri dieci mazzoncini questo è il resto cos'è? eh quello per la mia mappia che ci siamo un'altra volta no e veicoli va bene tu lui è il pesato robin no ma sarebbe robin è il pesato ok 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 abbiamo abbastanza monetina ben diamo ah è qui il costume ecco l'elettro costume con i fulminini in testa l'altro ne sono accorto adesso no no belle venti dell'energia non è cosa in giro io vedo però ok cu 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 figata ok abbiamo fatto abbastanza gli omogeni via eh ok si io sto rompendo altro perchè voglio le monete adesso non i mattoncini d'oro questo lì più avanti c'è una musica un pochino brutta ma ma superarma stiamo andando all'ace chemical ciao commissario gordon che stava minando a dei cassonetti adesso ti ho partito il giornale esatto prima si dà arkham che passati per tutta la città delinquenti nelle strade non vieti nel parco che posso dire con i giardini botanici è un killer moz sempre se ristruggendo la città di non cari killer moz serio wow killer moz che chi aveva mai immaginato è un'irruzione alla ace la gente sarà tutti fuori perchè c'è c'è killer moz che attacca i centrali nucleari e non magari quelle rette eccoci come la città giuvalo ogni volta i campioni esattamente sì bene ci sono tanti quindi adesso potrebbe correre anche lasciarlo caso è roba che si unisce non è un buon segno non è entrato qui questo ah 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 ottimo qui c'è un costume di robin ottimo su ok qui ok una leva è conosco da quel pezzo qui e questo ah i soldi vabbè non pensi altri ah una monetina blu vale tanto questo vai robin tutto tuo antiraliazione perfetto era quello che andava in acqua eh sì infatti questa è una bozza d'acqua oltre a questo cosa questa cosa che devi fare con batman e perché l'acqua finisce subito ha fatto uscire roba è una cosa dai soldi mirare ok batman tocca a te ah cos'è? criptonite? criptonite? non penso però secondo me c'entra con la criptonite verde quante monetine blu c'erano di anni immagino se erano io non salto lì sopra che oddio cos'è successo ok scappo no il pupazzo malvagio del joker maledizione due riduzione si hanno delle monetine qui c'è una leva qui c'è una leva oh c'è della buah quello qua ah quack 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 Ok, serve tu che plava Che spara verde adesso, perché? Ah, ma serve anche Come hai usato a uccidermi? Chi ti ha dato il permesso? Io ne vedo uno lì dentro, eh Non è bella la cosa Hai fatto un costume Che non abbiamo visto da tantissimo tempo, direi Ho caduto una bomba elettrica Un minikit E non ci posso arrivare Aspetta No, sa che serve Quello delle bombe, vabbè Siamo già a due, eh Ecco, io avevo già visti questi qua Lo sapevo che dovevano rompere Ah, pure qua Mi salto addosso Ma spaccagli il colo No Adesso che spacco il Ah, c'è pure batalang elettrici Oddio, mi sa che batalang elettrici Ma se non vai in acqua O che c'è no Questo gioco c'è 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 È un gioco C'è un gioco Che vuoi in Pokémon Pokémon che non puoi correre senza scarpe da corsa Cioè tu non sai correre senza scarpe da corsa Ma non sai qua Questi cosi Perché ma sono robine basta poi Ok, robine scarso Però Ed è anche molto inutile Come abbiamo visto L'altra volta Vai qua Non sa io a niente No Ha decapitato Batman Che Aspetta, qui c'è qualcosa che mi sembra sospetto Che non è da rompere Dai, i soldi, è bene Questi hanno un bottoli di soldi sta missione però C'è uno scopo di arrivare a 100 Dai Questo cosa serviva? Se c'è un robato non ci passava? Ah, per i soldi Ah, perché se no lui non poteva passare Ah Qui era altro soldi Questo dà un qualcos'altro Dà un altro soldi Monta questo Prendi questo Stoppia questi Vediamo se Vediamo se diamo a 100 Siamo già da 3 su 5 Ok Vai 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 Ciao No Perché Perché Per poter sempre tutto Cosa stai facendo? Un po' Un po' Un po' No Non è un po' Perché? Perché? Perché se non lo stai indietro tu Qui hai soldi Ma Che sono un infarto Vieni Robin Nel tuo momento questo Sono cose che puoi fare solo tu Lì c'è un altro Mini kit Da fanno sempre le bombe La Oh no Molitina Viola Questa qui non c'era ancora Aspettiamo questo al passaggio Cioè aspettiamo che passa al passaggio Ottimo Scioglilingua No Ha scivolato Cioè Cioè Ti abbingia Cioè Tipo Dele Dei non so cosa In mezzo di scarpe Ma poi scivoli pure Qui Femi a salire Mi sa Sì Sì È una scala Sono andato a cuore i soldi Questi Ragazzi siamo ricchi Stiamo già a 50 su 100 Stiamo solamente a 12 minuti circa Sì 12 Non posso passare da qua Ah no mi sto qua E da basta Quanto agi C'è qualcosa che devo rompere Perché Volevo rompere questo coso Io basta Infatti questi monetini Non li potrò prendere Invece sì L'ho rotto un pochino prima Non so se lo dovevo fare Però va bene comunque Dai Che Monetina 1 Monetina 2 Il costume con Ah Prendi le cose Se vuoi nell'ascio Crepi? Sì è crepato Lui no Lui ci può andare Oh stanno delle monetine sotto Vabbè ci andiamo dopo Adesso facciamo questa cosa Ok Già quello verde ce l'ho Mettiamo di qua È verde Ok quindi adesso Devo mettere quello viola Di qua Quello Perché quello arancione Si chiude a caso Basta E' l'ultimo Questo qui Sai che c'era monetina No No Non c'era nessuna monetina Però c'è una roba da rompere Dai Oh non è finito Ah mancava Un'ultimo Goccio L'ultimo goccio Un'ultima goccia Vabbè Oh tante monetine Penso di Di dover rimettere Costumi calamita Intanto non hanno pieno Le monetine qua sotto Stiamo già quasi a 100 Io non volevo dire Vai salirò Bambine Ok Ora puoi salire Non si lasciano Dietro le monetine blu Questa è una regola Dei Le regole pare sempre Nei giochi lego Sì vabbè Col Col muletto Stanno Quanti soldi stanno Stanno Guarda quanti Aspetta Ok Robine scende Robine scende Robine ti sta Beh Robine devi scendere Robine scende Ora Aspetta che sa che Robine Non ha capito Robine Ti avevo detto Che dovevi scendere Qui stanno Robine Questo Figo E' un monetine Non lo posso prendere Ah c'è Sarampino Guarda quante Adesso andrò ad andare qui Per altre E c'è una blu E' viola Volevo dire Che è anche meglio Stavo 85 Qui non posso scegliere Non posso scendere Comunque il costume Quello o l'altro Non mi è quello Unico Scende Eh no scende Vabbè E' un'altra parte Sì meno quello Questa prima Non fa niente Come c'è Arrivo di qua Ah Sesso la sca Vabbè Vabbè L'acqua Togli da pure Tanto non cazzo Serva Adesso Massimo Andiamo a riprendere E sono 92 Ne mancano 8 Sono liquido E lo ho trovato E si vede Batman qua però Che è lui che c'ha La pozione La quella che è A meno che Che Ma Può fare Robin Sì Robin pure Pure può Eh Devo sapere Ok Promezio Seno Mercurio Tantaglio Dialio Non penso No Infatti no Lasciate che Ti arrivo Di fondo Per non accorre Di queste Ricare qualcos'altro La criptonite Dato che Sono tutti i nomi strani E gli alieni Quasi Anche se esistono Adesso ce ne andiamo Sì Meglio di sì È finita la missione Penso non siamo arrivati Però c'è Ah no Non è finito Allora salvo Salvo e continuo Bene Robin è qui È sempre il tuo momento Dai siamo già a 100 Ci ceriamo Quanto facile Ehi Niente Stai Ora lancio Il liquido verde Che serve Sta Pozza Come faccio Adesso L'acqua Non ce l'ho Eh Andrò che qui Non ce sa niente Oh Stai Sta cosa Che tanto Non ti serve A niente Sto spaccando Solo cose Ma facca Questo coso No Vabbè Quindi Che faccio Aspetta qui qualcosa Ok Si è riempito D'acqua Si E non metti più a fuoco Ora Ok Adesso Non in acqua Stavolta Adesso Adesso Robin è pesato Che senza Non ce lo può avere Come i pokemon Quando dovevi correre Tutto Bene Ho creato un'arma Un'arma per batman Batman Non ci può passare Qui Devo ritornare indietro Ora Si Devo ritornare indietro Per forza Se no batman Non passa No batman Ti sto facendo Il percorso Semplice 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 Il cavolo Rimassa ancora una goccia Però Vabbè Ok Quello lo salti Batman Tanto le puoi saltare Si Si Le salti Ok Si Ma per E' andato Comunque Che stai facendo Stava 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 così Col braccio Che stava aspettando qualcosa O stava a fare una cosa stupida Ok Monetini Ok Le ho prese Noi comunque Siamo da questo C'è qui la città del ground Così che lo risolgo Questo lo metto qua E questo è meglio Ok No Non serve Vediamo cosa c'è nel pacco regalo E' Qualcosa di brutto C'era una dentiera Pigiorno No Non mettere la bomba Veloce Rompilo Che esplodono Ok Si scappa Monetini Bene Chi vuole una bomba Voi E anche tu Cosa ho fatto? Niente Ok No Che cosa è d'oro Mi sa È vero che fa È vero che luccica No Non basta Falzata In aria Le cose Perché Si muovi Bianchi e blu Ok Figo Però c'è la monetina No Una monetina No È sarebbe una cosa Molto brutta Bene Non serve a niente Vai a spedare anche questo È servito a qualcosa Almeno questo C'è la Quella è la faccia di Joker? Quella è la faccia di Joker? Si Bellissimo Si No Eh no Esplodi subito No A parte loro Qui c'è un computer E una pedana Meglio che tocca Robin Veloce 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 Che sono Spariscono i soldi Stanno sparendo Robin Mentre se lo troppo qui Si aveva il costume elettrico Non lo faccio Lo Penso Penso Che lo faremo con la guida dei mini kit Bellissimo Sì Ok Ho Intentato un cosa di ghiaccio Vedo Vedo i fiocchi di neve Velo in mezzo Che basta No Robin Perché l'incassi In mezzo alle scale Dai vai vai Veloce Robin Velocissimo No La monetina Ok Se no Aspetta Lo facciamo dopo questo Adesso facciamo questo Eh Batman 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 Vai Sì Oh no Invece vado così va Intanto sali qua Dai 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 che tu ci puoi andare in questo umore Basta Robin Non così Siamo già quasi Una mezz'ora di video Poi tu devi Dare fastidio Robin Ho visto Batman Ma lì Dimmi che No Ma Basta Mi arrendo Questa monetina Non si può prendere Ok Ti sei salvato Bene Non me la Ok Bravo 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 Qui sanno delle monetine Però non le dovete scappare Vieni Batman Qui c'è la seconda che salta Credo di aver capito Cosa dobbiamo fare Non Di certo non Cadere di sotto Esatto Lo sapevo Però mi questo Sto me la prendo No La vuole Ok Avevo un colpo che l'energia non c'era più Fatto Finito il livello Che siamo a mezz'ora Sono che nel mezzo C'è Superman Stiamo Noi stavamo solamente cadendo in mezzo alle fiamme Ciao Batto non è che piace tantissimo Superman Batto non fa il bianco Vabbè siamo Superman Noi possiamo Volare Poi vabbè Guarda se lo soffro Supergenze Ma che sta là Va bene così che è Superman Va bene Oh qui Bene Va bene Basta così possiamo Anche andare qui Se volete 200 200 Dove sono finito Eccoli Ok Morto Oh scendere qua Visto una cosa Bene Adesso salite però Venite qui sopra Salite da lì Tutto quanto Ah pure Pure in fretta Sono gli stessi costumi di prima Ci danno un costume nuovo questa missione O cosa Chiesto per me non avrebbe vista la Jits Quindi puoi farlo Si Ok Questo non lo puoi fare Ho capito Poi gli altri si sono d'acqua Ti vuoi fare Gli altri si chiudono Non è giusto Si Uno di qua Questo di qua Questo serve Tu Ok Gli altri lo sanno Sicuramente levati da sotto le scale Che il verde sta qua E mo Devo fare questo Sì tutti Aspetta mi sa che ho capito Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo No basta Ma direzione Ce la fai mettilo Metterlo sull'inqui Non ce la farò Oggi è scemo L'altro sta qui Esatto Basta monetine Non lo faccio più Abbiamo già troppe monetine Ok Sono stati aspirati Oh E' dietro ad acqua Congela Ho fatto Ho fatto Ho fatto anche altro Giò ho visto che serve Costume di Batman Questo qui Noi andiamo in volo Loro salgono qui Oh Tanti monetini Il piede No Dove è Batman Serve solo lui Ecco Non c'è mai quando serve Per il suo Per fare gli altri Fulmine Questo è l'ultimo Poi basta Perché questo qua Ne da di più di quell'altro No Mi sa che lui Non Mi sa che Superman Non c'è il rampino Eh Avevo questo pensiero Eh Andiamo di qua Qui c'è qualcosa Spacca che do Ok Va bene Spento il fuoco Ora Venite qui passate Ok Ok Manca solamente un fuoco Non so dove sia Però Ma questa monetina Prendila E manda in mezzo al fuoco Dove lo stai sotterrando Precisamente In mezzo all'aria Qui c'ho creato E questo E questo Questo sapeva qualcosa No Ok ho capito Che dovrà so venire qui Prima che venga anche il nemico Eccolo L'ultimo incendio Finalmente Un minikit In questa Scensione Va bene Vabbè Tutte e tre Tutte e tre Bene Vabbè Spero sia la fine Dai Siamo sul tetto Non possiamo andare più Nessun'altra parte Mi sa che Mi sa che ho messo 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 Il ditto davanti al latino di camera E che è successo Perché ho fatto sto casino Bene Devo rompere questi e prendere un altro minikit E questo qui no E questo qui no quando superman viene io posso andare avanti però se superman non viene perché deve stare qui a prendersi la scossa basta monetine sono dappertutto in questo livello allora questo qui sono cinque, non mi sto un'altra di qua di solito no, non c'era c'è sempre una volta in cui lo scelgo non c'è dai, meno l'ultimo ne manca un minikit solo, dai non lo trovo vabbè immagino che tocchi qui l'elettricità quindi adesso si sblocca anche il costume quello bomba non c'è niente di nuovo robin torno ok fatto benissimo no questo è il karma e prendi uno due monodine blu ragazzi siamo arrivati a 40 minuti il video più lungo di tutto il mio canale chi è accaduto da questa situazione? joker non c'è no è joker un vulcano in messico se il cuore va bene si pensa in materia di eslutore si ma eslutore c'è la kriptonite tra l'altro poi a che servono alla fine se non vabbè vabbè molto felice massimo siamo aspettaci che superman chi per lui venga salvaggia ogni volta che siamo pericoli è giustamente è giusta sta cosa collegamento collegamento remoro attivato va compiuta c'è se deve schienico chissà che c'è un robin con il pompiere se vado a vedere combinando i seguenti del pompiere se vado a vedere c'è in corso c'è in corso c'è in sostanza c'è in sostanza c'è in sostanza combinando gli elementi che sono le kriptonite lo sapevo robin questa volta si vado a vedere va bene abbiamo ad avvertirlo bene per ora cioè per oggi basta per favore 496 monete un mini kit di non si sa che un mattacino d'oro a me un altro per no niente manco uno perché ho messo 200 e passa monete bene direi che per oggi il video finisce qui e ci vediamo alla prossima ciao ciao